In questo numero del Tg Ambiente, dal PNRR 113 milioni per il piano forestale in 14 città. Il Ministero dell'Ambiente stanzia 5,5 milioni per la nuova strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile. Gli italiani preferiscono il packaging sostenibile, A2A, con le City Plug a Milano la nuova era della ricarica elettrica. 52 progetti di forestazione ammessi a finanziamento per un importo superiore ai 113 milioni. L'obiettivo è arrivare a 2 milioni e mezzo di nuove piante in 14 città metropolitane. Questi i numeri del secondo avviso pubblico dell'investimento PNRR sul piano di forestazione urbana ed extraurbana che permetterà un intervento su circa 2.500 ettari di territorio nazionale. Questi progetti si aggiungono ai 35 già approvati nel primo avviso pubblico del 2022 che hanno già consentito la messa a dimora di oltre 2 milioni di piante superando il primo target PNRR. I nuovi progetti consentiranno di oltrepassare anche il target intermedio previsto alla 31 dicembre 2024 di messa a dimora del valore cumulato di 4,5 milioni di cosiddetto materiale di propagazione forestale così come previsto dalla modifica del PNRR. Il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Picchetto Fratin ha evidenziato che il buon risultato del secondo avviso consolida le attività di forestazione urbana utili a migliorare la qualità della vita e il benessere dei cittadini rispondendo a questioni nodali come l'inquinamento atmosferico, l'impatto dei cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità. Il ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica mette a disposizione 5,5 milioni di euro per sostenere il processo di attuazione della nuova strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e dell'agenda 2030 come per la localizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU. I fondi serviranno per la sottoscrizione di accordi di collaborazione con regioni, province autonome e città metropolitane che diano piena attuazione alle direttrici di azione dei tre vettori di sostenibilità della strategia coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile, cultura per la sostenibilità e partecipazione. Cominciamo così, ha spiegato il ministro Pichetto Fratin, a dare concreta attuazione alla nuova strategia sulla quale prevediamo di investire nel prossimo biennio circa 17 milioni di euro. Presupposto di tutto è la piena connessione e collaborazione con i territori che devono sentirsi diretti protagonisti di una sfida che si può vincere solo tutti insieme. Con queste azioni, ha evidenziato il ministro, l'Italia rappresenta un caso di best practice internazionale per la localizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Gli italiani sono sempre più consapevoli delle problematiche collegate al cambiamento climatico. Secondo l'ultimo aggiornamento dell'osservatorio packaging del largo consumo curato da Nomisma, più di 6 italiani su 10 considerano tale aspetto come uno dei problemi più gravi a livello mondiale e per circa un terzo la crisi climatica e i suoi effetti rappresentano una delle principali preoccupazioni per i prossimi 12 mesi. Un'inquietudine che si colloca subito dopo la preoccupazione legata al carovita che nell'ultimo anno ha intaccato il potere d'acquisto delle famiglie italiane. La ricerca ha dedicato particolare attenzione al ruolo svolto dal packaging sostenibile dei modelli d'acquisto alimentare degli italiani. La sostenibilità della confezione rappresenta infatti un aspetto cruciale per contribuire a rendere un prodotto alimentare sostenibile. Tra le caratteristiche maggiormente ricercate, l'assenza di imballaggi in eccesso, le confezioni interamente riciclabili, quelle prodotte con ridotte emissioni di CO2 con materiale riciclato o biodegradabile. Forte attenzione anche per gli imballaggi plastic free e quelli utilizzabili più volte. Ricaricare l'auto elettrica in strada come a casa senza limiti di tempo. Dopo l'installazione pilota a Brescia, la rivoluzione parte da Milano ed è pronta a diffondersi in modo capillare in tutta Italia. A2A lancia nel capoluogo Lombardo, dove sono previsti 4.000 nuovi punti nei prossimi due anni, le colonnine City Plug, infrastrutture di arredo urbano che non impattano sulla rete elettrica cittadina per la ricarica lenta dei veicoli fino a 7 kilowatt. Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A. Quando bisogna decidere di mettere 100 colonnine in più nelle città il problema che parte sempre è che devi togliere 100 stalli ai parcheggi normali. Quindi abbiamo deciso di fare un salto, abbiamo scelto una colonnina a bassa potenza che è quello che consente di ricaricare le vetture durante la notte o anche durante gli orari lavorativi di giorno, quindi non c'è bisogno della colonnina enorme, deve essere una colonnina piccola, poco costosa, poco impattante nella città e che a quel punto si può permettere di aspettare che davanti a lei arrivi a parcheggiare un'auto elettrica. Mentre le grandi colonnine costose, quelle da Superfast, 250 kilowatt, devono per forza avere lo stallo libero davanti perché essendo anche infrastrutture molto costose non possono permettersi di non lavorare. Il progetto è stato presentato in via Manara a Milano dove A2A, in sinergia con l'amministrazione comunale, ha inaugurato la prima area di ricarica cittadina con Cityplug. Il sindaco Giuseppe Sala. A2A ha l'obiettivo di lavorare su quella evoluzione di business che è legata anche un po' al futuro, un po' al nostro modo di vedere le cose, ma lo sta facendo. Credo che la sostenibilità non ideologica ma concreta, pratica, ereditiva sia premiata dagli investitori, sia premiata dall'analisi, sia premiata dal mercato. Grazie a tutti.